Salvatore, parcheggiato la Ferrara? Sì, ho parcheggiato. Cosa ci fai? Allora, questo è un doppio angolo. Devo fare i punti con la pulsaria, il doppio angolo. Angolo di seconda. Dovrebbe andare con il palino e fare la messa angolo-angolo. Angolo di seconda, vai. Angolo. Eh, non male. Eh, otto punti e messa, bravissimo. Complimenti.